Anze intestinali dilatate è un capitolo generico che si rifà a una situazione ecografica vista nel secondo trimestre e che necessiterà poi di una conferma nel terzo trimestre. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che le anze dilatate nel secondo trimestre è un'ipotesi quasi impossibile da vedere, rarissima, e che quando le vediamo ci permette di poter fare tante ipotesi che vanno dall'atresia intestinale, che vanno dalla peritonite da mecolio, che vanno alla fibrosicistica. E noi dobbiamo considerare tutte le evenienze. Dobbiamo prima di tutto considerare che in questo caso ci troviamo a 23 settimane e quello che vediamo qui di abitudine noi non lo vediamo in questa epoca, ma lo vediamo più avanti. Noi vediamo qui l'inserzione del cordone, vediamo l'addome, vediamo che non c'è ascita, abbiamo visto precedentemente un regolare stomaco, adesso abbiamo visto una colecisti che sta in sede, e tra poco vediamo il colore dell'intestino che è più lucente. Andiamo ad assicurarci che era veramente la colecisti e non era un vaso, vediamo l'inserzione del cordone, vediamo che non ci sono calcificazioni endoaddominali, quindi è difficile che sia una situazione di natura infettiva. Vediamo queste anze che sono più lucenti rispetto all'ileo, che è l'osso che vediamo in basso. Quando vediamo questa situazione dobbiamo considerare, vediamo qui le anze dilatate che sono di circa, in questo caso 9 mm, ma in alcuni casi arriveranno anche a 13-14 mm, dobbiamo considerare tutte le ipotesi. Naturalmente la diagnosi di fibrosi cistica si può fare con relativa falicifacilità, se c'è stato un precedente bambino affetto da questo e si conosce quindi il locus, con estrema difficoltà in un'epoca così bassa, in cui bisogna prima andare a scrinare la paziente e vedere se è a rischio e poi dopo si potrà effettuare l'esame sul feto. Vediamo che non c'è ascita, abbiamo detto, non ci sono calcificazioni, le calcificazioni sono indici di peritonite dameconio, ma dobbiamo ricordarci che la peritonite dameconio può essere anche avvenuta, ma non è ancora verificata la calcificazione, che semmai vedremo dopo qualche giorno, anche se quando c'è una peritonite dameconio è quasi costante la presenza di ascita. Vediamo una vescica regolare, abbiamo già visto precedentemente che gli altri organi erano regolari, adesso vediamo anche i reni, osservate sempre queste ansie dilatate. Queste ansie dilatate in questo periodo possono essere solo del piccolo intestino, non possono essere del colon, perché quando le vediamo dilatate è sempre nel tardivo terzo trimestre. Vediamo i due reni regolari e chiaramente bisogna fare tutta una serie di indagini che vanno anche dall'esecuzione del cariotipo, perché c'è una maggiore incidenza di aneoploidia in questo caso e naturalmente va fatto un attento studio anche della placenta per vedere che non ci siano quelle situazioni di microcalcificazione o altro che possono fare intendere una patologia di natura infettiva e quindi è ovvio che noi andremo a fare anche gli studi effettivologici più comuni, quale per esempio quello del citomegalovirus. Il polidramnios che rappresenta una costante nelle patologie intestinali naturalmente in quest'epoca non è presente, se si verificherà si verificherà dopo la 26esima settimana, ricordiamo che stiamo a 23 settimane e qualche giorno, vedete il liquido amniotico che è normale, vedete le ansie intestinali, le ansie del cordone che si muovono, vedete che la placenta presenta una struttura normale, quindi in considerazione di ciò rimanderemo altre considerazioni al terzo trimestre.